Ciao a tutti ragazzi, mi vedete nella mia stanza in ostello perché siamo in una puntata un pochino speciale di questo assaggiamo perché sono stata a fare la spesa, ho fatto anche il video che caricherò prossimamente sul canale e ho trovato questi. I Tim Tam sono abbastanza famosi per chi li conosce qui in Australia, sono appunto dei biscotti ricoperti di cioccolato e questi qui sono particolari perché sono alla fragole champagne come gusto, sono un gusto nuovo, io l'avevo già visto a Sydney però non erano in offerta quindi ho aspettato e qui li ho trovati in offerta, quindi adesso direi di andare ad aprire la confezione e di assaggiarli. Si sente già un buon profumo di fragola, che vedete sono nella loro confezione di plastica, questo qui è il primo e andiamo ad assaggiarlo. faccio vedere all'interno com'è, come vedete appunto c'è questo strato rosino, devo ammettere che hanno un buon sapore come tutti i Tim Tam alla fine, creano anche dipendenza molto probabilmente, non si sente molto il sapore della fragola, secondo me si sente molto di più il sapore dello champagne, non so come sia possibile perché appunto solo aprendo la confezione si sente tantissimo il profumo della fragola, ma ha come un sapore di bollicine, non lo so, comunque sia in ogni caso sono buoni, se li trovate, io spero di trovarli in Italia perché appunto come vi ho detto creano dipendenza non solo questi ma anche quelli tra virgolette normali, l'unico problema è che si sciolgono appena sono fuori dal frigo sostanzialmente, come al solito vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social, in particolare vi ricordo Facebook, Instagram e Twitter, ho iniziato a usare anche Snapchat ma al momento sto ancora imparando quindi se volete seguirmi seguitemi anche lì, vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete iscrivervi al canale, potete mettere un like e potete anche condividere questo video con i vostri amici per farmi conoscere un pochino di più e niente io vi lascio, ci vediamo al prossimo video, ciao! Grazie!